Musica Dunque, una delle serate più attese al Faris Film numero 11 stiamo per vedere il film che meritatamente si è giudicato la leggendaria statuetta degli Academy Awards prima però vorremmo salutare e ringraziare gli esperti e partecipanti al convegno Tice the Bind che si è concluso oggi al Visionario, un convegno di tre giornate organizzato dal Centro di Espressione Cinematografica assieme alla Friuli, Venezia Giulia Film Commission e AVE questi produttori ora torneranno a casa nelle loro rispettive case asiatiche e europee ci auguriamo carichi di un nuovo bagaglio di conoscenze quindi thank you all for coming to take party in Tice the Bind we all hope you had a good time here see you soon, see you next year, of course Takita Yojiro, il regista del film che stiamo per vedere è stato il nostro primo ospite giapponese nel 2000 venne qui per presentare un film che si chiamava Secret e venne qui con il produttore di allora che è il produttore di oggi, cioè colui che ha creduto, investito e voluto un film così inusuale come Departures quindi direi che dobbiamo dare il benvenuto ancora una volta qui al signor Maze Yesuhiro Welcome again, please Buon tera I made a new film in that time, and I made a new film for the director of Departures. I made a new film in the USA. 10 years ago, he came to this festival with the director of Departures, Mr. Takita, with a film called Secret. Now, he's back with Departures, which, as many of you know, won the Academy Award for Best Foreign Language Film. This is a film called Departures, which is a film called 78. The American Academy Award, the American Academy Award, the American Academy Award, the American Academy Award. This film has won 78 awards altogether, including the Academy Award, 10 Japan Academy Awards, and, you know, many other awards as well. So this will be the first time for people in Europe to see it, and I'm looking forward to your reaction. Thank you very much. I hope that, you know, you enjoy this film, that you laugh, that you cry. So please enjoy it. Thank you. Thank you. Un produttore da Oscar, Maseya Suhiro, è un film che, pur parlando della morte, si trasforma veramente in un grande appassionato in no alla vita. C'è una piccola sorpresa prima. Buona visione. Buona visione.